Una firma storica, così è stata definita la firma del preaccordo sull'autonomia. Un passo importante che ha concretizzato il volere di 2 milioni di veneti. Ma quello di mercoledì è solo il primo atto di un processo che a Roma vedrà in prima linea i nuovi parlamentari eletti nella nostra regione. Sono stati aperti 5 tavoli su 23. I 5 tavoli sono il tavolo del lavoro, il tavolo della sanità, il tavolo dell'istruzione, il tavolo dell'ambiente e i rapporti con l'Europa. Ne mancano 18 e deve essere l'impegno principale di chi va a Roma, come Veneto, riuscire a portare a casa, per il Veneto e per i veneti, questi altri obiettivi. Quella dell'autonomia è una materia entrata ormai nei programmi di buona parte delle forze politiche. Cosa dunque distingue la voglia di autonomia della Lega da quella degli altri partiti? Perché noi della Lega siamo nati con il principio del federalismo, dunque abbiamo l'autonomia del DNA. Autonomia significa più controllo del territorio, più risorse e miglior gestione. Accanto all'autonomia, altra sfida per i parlamentari veneti che saranno eletti a Roma sarà la riapertura del Tribunale di Bassano, anche se non tutti sono d'accordo. Io sono sempre stato favorevole all'accentramento dei Tribunali perché viviamo in un mondo completamente mutato e anche l'idea di Orlando, che era quella di aprire uno sportello di prossimità, era un'idea abbastanza balzana perché oggi tutto si trasmetterà sostanzialmente per via telematica, quindi non è che aprire uno sportellino per andare a depositare un documento fosse un reale aiuto. Però i particolarismi locali ormai credo debbano essere superati perché è giusto che ci sia la giustizia vicina, ma deve essere una giustizia rapida e una giustizia efficiente e non è che aprendo 600.000 piccoli tribunali risolviamo i problemi della giustizia.